Lo Stato italiano, razzista e vampiro, sta mettendo le mani nelle tasche degli imprenditori canturini, brianzoli e comasche. Il corpo forestale dello Stato ha elevato multe salatissime, fino a 20.000 euro, a imprenditori, a artigiani canturini, unicamente per degli errori formali nella compilazione dei formulari per lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Una vergogna, multe inaudite, multe che rischiano di penalizzare un comparto importante come il comparto del legno arredo canturino. Sanzioni che stanno mettendo in ginocchio, in maniera irreversibile, le nostre aziende. Questo è inaccettabile. Gridiamo allo scandalo, gridiamo allo scempio, diciamo al governo italiano di mettere giù le mani dalle nostre aziende. Basta mettere le mani nelle tasche degli imprenditori onesti e sani canturini. Per questo motivo abbiamo presentato una proposta di legge, una proposta di legge di buonsenso che cerca di non penalizzare le nostre aziende, che limita le multe, che anticipa un primo ravvedimento operoso. Chi sbaglia viene ammonito, si deve correggere senza bastonarle con delle sanzioni indecenti. È una proposta di legge che tenta di tutelare le attività economiche del nostro territorio, che tutela il Made in Italy e che consente alle nostre aziende di poter sopravvivere e di rappresentare la ricchezza per il nostro paese e per il territorio comasco e canturino. Anche qua aspettiamo una risposta da parte del governo. Per noi è una battaglia di principio, è una battaglia di giustizia, è una battaglia a difesa di aziende sane che creano ricchezza. Il governo ascolti la voce del territorio, ascolti la voce delle imprese, ascolti la voce di imprenditori per bene. Per noi questa è una battaglia di principio che condurremo fino alla fine.